Instagram Reels vs TikTok, la vera sfida è cominciata ora. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno le 7.30 anche d'agosto lanciamo il caffettino, il podcast che parla di marketing, di social e di business e di tutto quello che ci gira attorno. Come sapete da pochi giorni è attivo Reels, una nuova funzionalità, una nuova, diciamo così, sotto applicazione di Instagram che permette di fare micro video divertenti molto molto simili, anzi diciamo copiato da TikTok. La guerra è cominciata, o meglio secondo atto di una guerra in cui vede da una parte gli utenti scappati da qualche anno dalla galassia Facebook quindi chiaramente anche Instagram e il colosso di ByteDance TikTok, il colosso cinese. È chiaro dopo aver ascoltato un po' tutto quello che veniva fuori dal congresso e l'americanizzazione delle applicazioni e il blocco potenziale di Trump e di TikTok ci potevamo aspettare non soltanto l'acquisizione tentata da Microsoft su TikTok ma anche e soprattutto l'uscita di Reels. Perché Mark Zuckerberg in questo momento lancia un servizio identico a TikTok? Beh, basta pensare anche un po' al passato, a quello che è accaduto con Snapchat. Vi ricordate le stories? Bene, erano su Snapchat e a un certo punto, quando Snap è arrivato a un certo livello, il buon Mark ha copiato e incollato le funzionalità e le ha inserite su Instagram. Per il morale della favola, Snapchat rimane attiva per una nicchia ma scompare per il mondo consumer. Ho fatto qualche prova e devo dire che la visibilità organica dei contenuti è pazzesca. In qualche minuto sono arrivate migliaia di visualizzazioni, commenti, eccetera, eccetera. È quello che fanno tutti i social tutte le volte, ovvero lanciano una nuova funzionalità o una nuova piattaforma e ti danno una visibilità organica pazzesca per poi chiaramente piano piano togliertela e trovarti dopo qualche mese peggio di prima. Qual è allora il consiglio che posso darvi? Sperimentate, perché effettivamente quando accade questo non bisogna mai scegliere tra uno e l'altro, tra TikTok e Reels. Non bisogna sperare, pensare che qualcuno faccia qualcosa per noi. Sperimentiamo, testiamo, anche pubblicando, togliendo, giocando un po'. È in questi primissimi 3-4 giorni che bisogna sperimentare e portare a casa anche della buona visibilità pagata gratuitamente e non a caro prezzo come accade sugli altri social. Perché è vero, essere pionieri è una rottura di scatola, è difficoltoso, porta via un sacco di tempo, ma permette anche di capire nuove strumentazioni e nuove sperimentazioni. Una di queste l'ho fatta appunto al lancio di Reels. Ho pubblicato il mio filtro che ti permette di essere intervistato da me con la mia voce. Chiaro, non lancerei il filtro per, come dire così, giocare, ma lo lancio per sperimentare tra di noi, per provare, per capire le potenzialità organiche non di questo strumento e per capire anche se l'idea di Mark Zankemer di far tornare le persone, diciamo così, under 25 sulla piattaforma di Facebook, ecco, andrà a buon fine. Siccome l'esperimento è molto interessante, soprattutto per noi che non lavoriamo né per TikTok né per la piattaforma di Facebook, ma siamo in mezzo e surfiamo, cerchiamo di sopravvivere e di vivere con le nostre attività. Non bisogna essere fan, bisogna essere furbi, scaltri e sfruttare quanto loro ci sfruttano. E concludiamo questa ultima puntata settimanale delle podcast estivo, ci risentiamo lunedì, ma se volete venirmi a trovare, Mario Moroni canale su Telegram vi attende, oppure anche il mio sito mariomoroni.it scrivetemi perché rispondo a quasi tutti. Fate i bravi, è lunedì, buon weekend!